Grave incidente stradale lungo la statale 417 che collega Gela a Catania. Un tremendo impatto che ha coinvolto quattro persone, due giovani amici di Niscemi e una coppia di Licata. La dinamica del sinistra ancora da chiarire è al vaglio della polizia stradale di Caltagirone che sta cercando di risalire alla causa che ha provocato il violento incidente. Lo scontro è avvenuto alle porte di Caltagirone tra una Fiat Punto sulla quale viaggiavano i due ragazzi niscemesi di 20 e 18 anni e una Fiat Croma guidata da un 35enne licatese che viaggiava insieme alla propria moglie. Ad avere l'apeggio i due amici di Niscemi, il primo di 20 anni ha riportato una frattura al bacino e ferite lacero contuse alla testa. Per lui necessario l'intervento dei sanitari dell'elisoccorso che dopo averlo rianimato sul posto lo hanno trasferito d'urgenza al canizzaro di Catania. Mentre l'amico diciottenne a seguito dell'incidente è al momento ricoverato al reparto di rianimazione dell'ospedale Gravina di Caltagirone in prognosi riservata. Situazione meno grave invece per la coppia di Licata. In merito alla dinamica del sinistro, il conducente della Croma, secondo le prime ricostruzioni, proveniva da Catania in direzione Gela e a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia ha perso il controllo del mezzo scontrandosi in semicurva con i due ragazzi di Niscemi che viaggiavano in direzione opposta a bordo della Fiat Punto che è stata trovata dai soccorritori dopo l'impatto con le due ruote del lato destro sopra il guardrail. Providenziale l'intervento dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco che hanno avuto il loro da fare per estrarre dalle lamiere contorte gli occupanti della Punto.